Non ne posso più dei vostri cani che sporcano i marciapiedi, adesso inizio a lasciare bocconcini buoni da morire, senza ripetere insulti e volgarità. E' questo il succo del messaggio affisso nei pressi dell'area cani di Viale Repubblica Voghera da qualcuno che ha pensato di minacciare i proprietari degli animali che frequentano la zona. Per questo una quindicina di residenti allarmati dal messaggio minatorio hanno deciso di rivolgersi a un avvocato e di presentare un esposto in procura per denunciare l'accaduto, facendo poi lo stesso presso la compagnia dei carabinieri di Voghera. Avvertito della vicenda, anche il comune si è attivato per lo sfalcio dell'erba nell'area di sgambamento per aumentare così la possibilità di individuare eventuali bocconi avvelenati. Inutile dire che i residenti in zona e i proprietari degli animali che erano soliti frequentare quest'area si sono molto preoccupati, molti di loro hanno per cui deciso di evitare di tornare per non correre rischi. L'area, aperta alcuni anni fa in un terreno di SST Pavia, grazie a una convenzione con il comune, è tra le più frequentate. Di Voghera ospita anche alcuni attrezzi per l'allenamento dei cani.